Tra poche ore la legge ribattezzata salva siderurgico che permette appunto all'azienda di produrre e commercializzare l'acciaio sequestrato dalla magistratura passerà al vaglio della Camera di Consiglio nella Corte Costituzionale chiamata a decidere sull'ammissibilità dei due conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati dalla Procura di Taranto. Il primo, giunto alla consulta alla fine del 2012, riguarda il decreto legge 207 del 3 dicembre. Il secondo, depositato nelle scorse settimane, riguarda invece la legge di conversione, appunto la numero 231. La Procura contesta sia il decreto che la legge e afferma che entrambi si pongono in netto contrasto sia con la Costituzione che con l'autonomia del potere giudiziario. Inoltre, sempre secondo i magistrati, per 36 mesi di vigenza dell'Aial, l'ILVA di fatto viene autorizzata di inquinare. Nella Camera di Consiglio la consulta non deciderà nel merito dei due ricorsi, ma si esprimirà solo sulla loro ammissibilità. Nel caso di giudizio favorevole, poi, si aprirà un'ulteriore fase. Alla Corte Costituzionale sono giunte poi anche le impugnazioni fatte sia dal GIP, Patrizio Todisco, che dai giudici del Tribunale dell'Appello, i quali hanno sollevato diverse eccezioni di incostituzionalità rispetto alla legge 231. GIP e Tribunale, sospendendo ogni decisione sulla richiesta dell'ILVA di dissequestrare merci per 1.700.000 tonnellate, hanno rimesso la legge alla Corte Costituzionale, affermando, tra l'altro, che l'ardinamento non prevede che le norme abbiano effetto retroattivo e che le merci sequestrate tornino nella disponibilità degli indagati. In particolare, il GIP Todisco ha rilevato che la legge 231 viola 17 articoli della Costituzione, mentre per i giudici dell'Appello sono 5 gli articoli della Carta Costituzionale ad essere violati. Commentando il caso ILVA, il nuovo Presidente della Consulta, Franco Gallo, ha assicurato tempi brevi per le decisioni considerate l'importanza della questione e le sue ripercussioni dirette sui temi di ambiente, salute e lavoro.